Selvaggia Lucarelli, bella, brava, buona. Selvaggia Lucarelli ha sofferto per quattro anni per un amore tossico, una dipendenza affettiva. Ma sì, sì, Selvaggia Lucarelli, se ci sono ancora queste situazioni come quella che hai tu descritto, che tu hai sofferto, il fatto è che nelle scuole non viene insegnata questa mia opera, la strippa del serpente. E' vero Selvaggia Lucarelli, tu la chiami dipendenza affettiva. Io lo chiamo l'amore, l'amore romantico lo chiamo. Come nasce l'amore romantico? Ah, l'amore romantico, sì, nasce diciamo nell'ottocento avanti Cristo con Edena di Troia, Edena di Sparta e Paride, l'amore romantico che è cantato nell'Iliade e nell'Odissea. Poi c'è, dopo l'amore miceneo che io ho descritto qua nella stipe del serpente, cara Selvaggia Lucarelli, dopo ci saranno tante forme di amore, ci sarà l'amore della scuola siciliana, cosa fresca, volentissima. Ci sarà l'amore provenzale, trovatorico, dei trovatori. Va per la selva a Bruna, solingo il trovator, domato dal rigor della fortuna. La voce sua si bella, la dispiegò il dolor, la voce del cantor non è più quella, l'amore romantico. Giovanni, poi Giovanni Bechet, il trovatore, e, beh, torniamo però all'amore provenzale. Dopo c'è l'amore dolce stilnovistico di Dante Righieri, il nostro sommo Moeta. Ella se va tutta sentendosi laudare benignamente l'umiltà vestuta, e parangia il sceso dal cielo a miracol mostrare. L'amore romantico, sì, poi c'è l'amore, quello romantico, quello di Giovanni Bechet, trovatore, l'amore descritto da Goethe, il Goethe, nei dolori del giovane verte, il giovane verte si spara, si spara in una stanza tutta coperta di, riempita di pettali di rosa, perché non è ricambiato. C'è anche l'amore di Ugo Foscolo, le ultime lettere di Jacopo Ortis, le varie forme dell'amore romantico. Vedi, Selvaggia Lucarelli, io ho descritto l'amore, io se la firma, ah, guarda, Selvaggia Lucarelli, se tu non sai chi sono io, io sono questo qua, sono descritto in questa mia immagine, ti piace questa mia immagine Selvaggia Lucarelli? E questa è la mia ultima opera, soltanto l'ultima, è Selvaggia, soltanto l'ultima, sai, perché ne ho scritte tante di opere, sai, tante, 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 Selvaggia Lucarelli, beh, allora, io ce l'avvino ma sono in descrivere l'amore come quella forza che sposta le montagne, ma che poi, prima o poi, ti fa finire o in tribunale, o all'ospedale, o al cimitero. Sì, e io qua ho descritto come nasce l'amore, cioè come viene creato l'amore nel grande laboratorio patriarcale, perché l'amore in origine, cioè la forza dell'amore servì a creare la famiglia monogamica patriarcale. Qua è troppo lungo, eh, troppo lungo spiegare un libro, spiegare questa opera Selvaggia Lucarelli. L'amore nasce nella culla, nella culla, nella culla della famiglia monogamica patriarcale. Il bambino e la bambina sono impintati, impintati da mamma e papà, fondamentalmente da mamma e papà, perché ci sono anche i nonni, gli zii, ma fondamentalmente da mamma e papà. E il primo amore è la bimbina, la bimbina è il suo babbo, e il primo amore del bimbino è la sua mamma, eccetera, eccetera, eccetera. Qua mi fermo, eh, perché ogni cosa è descritta qua, Selvaggia Lucarelli. La tua non è stata una dipendenza affettiva, hai saputo? Capito? Tu hai semplicemente conosciuto l'amore romantico, l'amore romantico, che per l'appunto è quella forza che sposta le montagne, ma che prima o poi ti fa finire o in tribunale, o all'ospedale, o anche al cimitero. E Selvaggia Lucarelli, se vuoi sapere benissimo quello che ti è successo, cara Selvaggia Lucarelli, non devi far altro che entrare in una libreria, comprare una copia di questa opera storico-mitologica e leggerla con calma, così capirai ciò che ti è successo, ciò che ti è successo. Va bene, va bene, Selvaggia Lucarelli, cara, guarda che in ogni caso, se tu non vuoi andare in una libreria a comprare una copia di questa opera storico-mitologica, Selvaggia Lucarelli, tu farmi pervenire il tuo preciso recapito postale, ed io ti farò pervenire a mie complete spese postali e una copia della stirpe del serpente con tanto di autografo da parte di Serafino Massoni che sono io. Va bene, Selvaggia Lucarelli, lo so che hai sofferto tanto per quattro anni, hai sofferto tanto, tu la chiami da dipendenza affettiva? No, 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 io lo chiamo l'amore romantico. Sì, 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 l'amore romantico. Proprio così, l'amore romantico che è quella forza che sposta le montagne, ma poi, prima o poi, ti fa finire o in ospedale, o in tribunale o al cimitero. Ok, Selvaggia Lucarelli, a te Selvaggia Lucarelli, a tutti voi, tanti cari saluti da stirpe del serpente.